Cosa c'è il clima? Cosa c'è la presenza? Cosa c'è il problema? Cosa c'è il problema? Cosa c'è il problema? Cosa c'è il problema? Cosa c'è il pastore? Cristiano? Prala? Ecco, c'è il proprio spesso il momento che abbiamo detto che ci sono i dati in un programma Il programma lui tra david a David i chiami di Parcelli alla prossimità Il programma che vi all'issabavamo ho conosciuto nell'Italia Cosa c'è l'artenga della storia dell'Italia Il programma sono già chiesto che non ho ricevuto il perzo e le presenti Ho saluto Io ti mostro non amogli di sona, ma non mi sono chiesto a te, ma non mi sono chiesto, non mi sono chiesto se ora, ma non mi sono chiesto a te. Io la posso tenere una pezzeria, per farina il mondo,ほ vero che è vero che adesso ti viene a te. I conti che mi sono chiesto a te. E non è chiesto a te. Si, non ho chiesto, io non ho chiesto a te. Se non mi sono chiesto a te. Chi è mi parlando? Che ci è un po' più uomo e ti sono chiesto a te. Grazie a tutti. 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 Amén. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti.